Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo sumo vlog come ogni due sabato vi porterò le solite domande che mi avete fatto e le classiche sfide in più oggi abbiamo qualche ripresa eccezionale perché ho organizzato un mini raduno e lo sa solo chi mi segue su Instagram quindi chi mi segue su Instagram può far parte di questi piccoli eventi che creo semplicemente visualizzando le mie storie e poi trovandoci tutti assieme vedete ora Fiori è con me nel vlog e questo per dirvi che è tornato e vi porterà nuovi video per i nuovi iscritti seguitelo lascio il link in descrizione allora prima domanda prenderò mai in enduro? semmai quale prenderò? allora a me piace fare enduro veramente tanto lo ho già a casa solamente che lo usa mio padre per lo più K400 semmai ora vi lascio una foto o un video e se volessi prendere un enduro sinceramente andrei sul due tempi sarà un K 300-250 oppure un Skuarnatie sempre 250-300 però devo ammettere che la moto con cui mi sono trovato meglio finora a fare enduro è stato un 2,5-4 tempi che ho avuto KTM ed era veramente una moto comoda comoda dato che aveva abbastanza potenza per essere gestibile in più era anche abbastanza leggera non pesava così tanto quindi era molto divertente perché era maneggevole e comoda da utilizzare che dobbiamo ooooh ha ooooh 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 prossima domanda che abbigliamento uso per andare in moto? allora ora che è estate faccio fatica a tenere su giacche con protezioni quando faccio i giri quali seri lunghi ok utilizzo sempre la mia tuta in pelle completa con anche i stivali che ho appena comprato prima utilizzavo delle scarpe che coprivano i talloni poi quando invece gli ufaggini normali o anche alla sera utilizzo una giacca dell'alpina star con protezioni poi i guanti ho questi qua che dovrei cambiare in più per i miei allenamenti in più per i miei allenamenti utilizzo un paraschiena anti shock e l'ho su pure adesso non si vede però l'ho su e a proposito di protezioni abbiamo appena scoperto che un ragazzo è caduto spero non si sia fatto male stiamo andando a recuperarlo ragazzi dopo questi problemi ho deciso di fare la seconda parte di questo blog in un'altra giornata quindi l'altra domanda e le sfide le vedrete ora ultima domanda che mi avete fatto poi passiamo le sfide è la pola o i carabinieri mi ha mai beccato far stand sì mi hanno beccato qualche volta sia in dei parcheggi ad allenarmi che in strada a volte a pinnare e quello che succede dopo potete solo immaginarlo ora passiamo alle sfide prima sfida fare uno stoppi su un oggetto e ho preso questa lattina di red bull metterò la visuale laterale e vedrete se lo schiaccerò o no la prossima sfida fare un'impennata con il con i piedi sulla sella e vola faremo tranquillamente spero di aver schiacciato per bene la lattina e ora sfida ciao 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 non c'è molto spazio per impennare ma questo è quello che possiamo fare in questo spazio ragazzi siccome non ho potuto finire sfide dato che una dovevo farla assieme a un mio amico ma ho dovuto portare la moto dal meccanico a fare un lavoretto speciale sono sul 400 per finire questo sumo vlog e darvi qualche informazione particolare allora praticamente verso fine luglio e i primi d'agosto andrò uno o anche due giorni sul lago del Garda con un mio amico e molto probabilmente faremo un raduno o anche un mini incontro nelle zone di Garda e farò sapere il tutto tramite instagram quindi se non mi seguite su instagram non potete sapere che giorni precisamente andrò e tutti i miei movimenti sul lago di Garda lascio il link in descrizione per oggi il sumo vlog lo finisco così sul 400 se volete qualche vlog in enduro commentate più ricordatevi di propormi le vostre sfide altre domande che avete da farmi e nel prossimo sumo vlog proponetemene di più siccome oggi ne ho fatte poche quindi ragazzi vi ricordo di seguirmi su instagram link in descrizione lasciate like commentate noi ci vediamo nel prossimo video